ragazzi buongiorno buona domenica 21 agosto 2022 questa siamo arrivati a round stone ragazzi che è un villaggio casine colorate che si affacciano sul mare facendo una deviazione di due chilometri e mezzo per un punto panoramico guardate qualche strada sta facendo fare il navigatore allora cinzia questo small cappuccino com'è guardate che carina questa questa abitazione due finestre sono vere altre due sono tinteggiati la wild atlantia di kylie moore un po di storia vi faccio nel 1850 margherita e michele per gli amici margaret e mitch e durante il loro viaggio di nozze si innamorarono di questo posto o meglio la moglie si innamorò di questo posto il marito per amore verso nei confronti della moglie comprò un bel pezzo di terreno marita comprato per amore dell'amore della donna e della moglie in inghilterra si guida a sininta si guida a destra quindi possiamo fare anche il contrario fiordo di killary non fermarsi qua a fare foto video e quant'altro impossibile guardate queste pecore ogni greggio ha un colore diverso questo è sul rossiccio primo gs italiano che troviamo in irlanda praticamente la struttura dove dormiamo è questa qui la moto è parcheggiata qui davanti a voi in me dietro quelle da si entra all'interno del pub e poi si sale su attraverso la struttura questo è il pub sotto alle nostre camere in realtà oggi siamo entrati da qui e siamo saliti dalle porte a nostre spalle sulla camera il 3 e mezzo era così musica pompa prossimo video